Eravamo verso aprile-maggio del 1944, due amici, eravamo due amici, ci siamo armati con lo stem, pistola e bomba a mano, da Castelnuovo siamo scesi a Murialdo, paese della Valbornida. Mentre entriamo nel paese incontriamo un signore, ci conosce perché, eravamo dicendo Murialdo, ci dice, vedi ragazzi guardate che c'è un tedesco in un negozio laggiù che fa un po'... andate un po' a vedere, state attenti eh, arriviamo a questo negozio, c'è questo tedesco, i borghese, questo negozio, e chiedeva appunto di noi partigiani, però diceva i ribelli, i ribelli, i ribelli, preso questo tedesco, che poi non era un tedesco, ma era un austriaco della TOT, un capitano. L'abbiamo preso, portato su al nostro distaccamento, insomma l'abbiamo fatto parlare senza fare cattiverie, non come facevano i fascisti che maltrattavano i partigiani che prendevano prigionieri. L'abbiamo trattato bene, abbiamo dato da mangiare, insomma ha confessato di essere un capitano della TOT a Savona. e da avere la fidanzata che si chiamava Mariangela, e dice se io potessi avere, mettermi in comunicazione con questa mia ragazza, mi farei portare su tutto quello che ho lasciato in casa sua. E noi così gli diciamo, ma senti, cos'hai lasciato? Sì, ho lasciato il mitra, la pistola e la divisa. No, eh, non fare quelle cose, perché tu, Murieldo, la ragazza non ci arriverà mai. Insomma, l'abbiamo portato con noi, ed è stato con noi parecchi mesi, che a metà lì, a metà anno del 44, abbiamo avuto come un po' di sbandamento, e chi da una parte e chi dall'altra, anche sto capitano, è venuto a finire poi giù, che ha formato un'altra squadra. Una squadra di partigiani che erano una trentina, che sono andati a finire come distaccamento a Cortemiglia, sopra i monti, e che era poi passato lui, il comandante di questo distaccamento. Che poi io, dato che ero andato con gli inglesi a fare i lanci, a fare tutto, l'avevo poi perso di... non lo trovavo più, insomma, non avevo più avuto occasione di vedere e parlare con questa Austria, questo tedesco, diciamo. Il nome di battaglia? Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Non c'è un problema. Poi ho conosciuto, dopo un po' di tempo, su al distaccamento dove eravamo noi, perché abbiamo cambiato diverse volte posizione, eravamo lì alla Porina, vicino a Marsaglia, al comando del Maggiore Bogliolo, e abbiamo conosciuto, ho conosciuto Lulù, il famoso Lulù, quel famoso patriota francese, quello che ai tedeschi lui non le piaceva dare da mangiare, ne ammazzava tutti. avevano distrutto la sua famiglia. Proprio lui in persona ci ha raccontato a noi lì come erano andate le cose. Lui era un bambino, si è salvato lui e la sorella piccola, che poi è arrivato su, che era venuto già grande, e è venuto poi in Italia, erano scappati. Era un alsaziano. e poi questo Lulù l'ha tradito e l'ha fatto ammazzare. a Caruglia. Tu hai conosciuto il comandante Mauri, quindi? Io? Sì, era lui che ci dirigevano, io sono, come sono andato nei partigiani, sono andato subito con il maggior Mauri. Che figura era di comandante partigiano? Comandante dei partigiani Mauri, era un uomo, non so a chi, un tipo come Alfio, più grosso. Ma di carattere? Carattere dolce, però severo, eh? Era dolce, ma severo nello stesso tempo. Lui non voleva che noi facessimo, per esempio, prendere un fascista, così e ammazzarlo. No, eh? Non voleva. Voleva che noi portassimo al comando questi fascisti. tramite il suo comando facevano un processo. Se era da fucilare, lo fucilavano, altrimenti lo prendevamo nelle nostre file. Difatti, ne avevamo molti repubblicani nelle nostre file. Tant'è vero che quei duecento, quei duecento della Monterosa che il tenente Gildo Milano ha recuperato a Paroldo. Apriero sono messi d'accordo, sono arrivati giù di notte e li hanno presi tutti. Loro stessi hanno sequestrato quei pochi tedeschi che avevano insieme e quegli ufficiali che dubitavano che fossero dalla parte d'etra, non come loro. Gildo li ha portati tutti su alla pedagiera e un po' da una parte un po' non distaccamento, un po' non altro. Poi ha fatto una specie di processo. Quelli che volevano rimanere sono rimasti tutti con noi e chi voleva andar via li ha lasciati andare perché erano quelli quegli alpini lì che venivano dalla Germania, non erano, erano poco che erano in Italia, non sapevano ancora niente di come era la situazione. che erano